Temporanea rimonta dell'alta pressione con una saccatura posizionata sull'Europa centrale che tenderà a scivolare verso l'arco alpino, ma con effetti poco significativi sulle nostre regioni, successivamente pressione su valori medio-alti per gran parte della settimana. In Toscana lunedì 20 febbraio parzialmente nuvoloso e nuvoloso sulle zone centrali occidentali della regione, associati a possibili piogge e rovesci sparsi in esaurimento nel pomeriggio, venti deboli variabili, mari calmi o poco mossi, temperature minime in aumento, locali gelate possibili sul fondo valle delle zone più interne orientali della regione, massime stazionarie o un lieve calo in prossimità della costa. Sul territorio provinciale poco nuvoloso o nuvoloso, a Lucche sulla Piana temperatura minima 5, massima 14 gradi, a Via Regge sul litorale minima 7, massima 15, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 1, massima 15 gradi, martedì situazione sostanzialmente stazionaria.